Sono stati smascherati dai carabinieri i due fratelli accusati di estorsione aggravata e danni di un commerciante di Isernia che aveva subito nei giorni scorsi danneggiamenti al proprio locale, minacce e richieste di pagamento pari a 5.000 euro. I ragazzi di appena 15 e 16 anni, laziali di Viterbo ma residenti nel capologo Pentro, sono stati bloccati dalle forze dell'ordine e condotti in caserma. Poi la successiva denuncia al Tribunale dei minori e alla Procura della Repubblica di Isernia. A loro carico anche resistenza pubblico ufficiale e porto abusivo di un coltello. La forma con la quale era stata organizzata questa attività estorsiva era tipica di quella utilizzata da organizzazioni criminali. Quando abbiamo scoperto che invece tutto era stato organizzato e anche in modo abbastanza abile da parte di questi due minori la cosa ci ha sicuramente lasciato anche a noi meravigliato. Comunque l'importante è che abbiamo subito bloccato questa azione estorsiva e abbiamo assicurato la giustizia ai due responsabili. I genitori ovviamente anche loro meravigliati, non si aspettavano da parte di due figli una cosa del genere.